Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come potete vedere, sono in camera mia, c'è un qualcosa di allestito che non si vedeva sul mio canale da tantissimo tempo e il motivo per il quale stiamo usando questo setup per registrare è perché, come potete ben vedere, qui sulla scrivania c'è un pacchetto. Cos'è questo pacchetto? Mia sorella ha deciso di cambiare telefono e acquistare un iPhone 11 Pro Max da 256GB su Swappi, questo sito che vende iPhone ricondizionati. Ovviamente non è sponsorizzato perché purtroppo non ci paga, né tantomeno siamo stati in contatto, però mia sorella aveva un po' di dubbi, incertezze perché ha sempre comprato telefoni nuovi all'Apple Store quindi diciamo è una novità prendere soprattutto un ricondizionato su un sito sul quale non si è mai comprato. È comunque una cifra abbastanza consistente che ha cacciato lei di tasca sua, quindi la preoccupazione è ancora più alta. Io da bravo fratello cosa ho fatto? Ho aspettato che arrivasse il pacco, l'ho preso senza che lei sapesse nulla, l'ho aperto e sono andato a sostituire il telefono all'interno della scatola con una mattonella. Classico. Adesso mia sorella non sa nulla, sta tornando adesso dall'Accademia di Trucco che sta frequentando. A breve arriveranno anche video di questo argomento sul suo canale, quindi vi invito a iscrivervi, troverete il link qui sotto in descrizione e anche il banner qui in alto. Quindi niente, io sono tra virgolette felicissimo perché immagino già la sua reazione e non lo so, ho paura quasi a vederla perché sicuramente... la segna non c'è. Credo sicuramente piangerà, non lo so, spero di sì. Vorrà dire che lo scherzo sarà riuscito decisamente bene. Quindi niente, ci vediamo. Stavo dimenticando una cosa. Come le farò aprire il pacco con tutto questo setup? Ovviamente lei ha un canale YouTube. Ele, perché non facciamo un bel video unboxing in cui apri questo tuo nuovo telefono e lo porti sul canale? Quindi lei sarà convinta che questo video sarà un video unboxing del suo telefono da portare sul suo canale. Quindi lei farà l'intro, farà tutto. Basta, vi lascio direttamente al futuro. Una cosa veloce, veloce, senza perdere tempo. E che devo dire? E niente, allora, niente, fai l'intro. Ragazzi, oggi un video è diverso dal solito, ho deciso di comprare il nuovo telefono. Volevo semplicemente farlo vedere, ok? Ok, 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 ok. Ma non sta registrando. Non abbiamo il microfono esterno, quindi... Urlò? No, urlano. Però, aspetta, gli urlo a finestra, no? Si sanno fare gli umori. Però muoio diventano una noccia. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video... Benvenuto. Si rifà. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con mio fratello, nella sua stanza, e oggi ho un video diverso. Perché ho un video diverso? Perché non faccio quello che faccio di solito. Cioè niente. Non è vero. È un video unboxing. Ho comprato... Adesso mi è arrivato un pacco che è da Swappi. È un telefono, l'iPhone 11 Pro Max, giusto? 2,56 giga. Esattamente. E Swappi è praticamente questo sito che vende telefoni iPhone ricondizionati. Non è di sponsorizzazione perché... Come potrebbe essere? Non ci pagano. Impossibile. Però volevo fare quello che dire. Cino, come lo apro? Come lo apri? In realtà... Ma è aperto. No, vedi? È arrivato così. È pacchettato una merda. Sì, i corrieri già sai. È pacchettato un po'... Non far vedere i codici. Eh, vabbè, non fare niente. È pacchettato un po' male. Basta stracciare tutto, secondo me. Straccialo da dietro perché non c'è lo sconcio. E' un po' più semplice. E' più ribolt. Ah, qui è la ricetta, no? Uh, questo credo forse sia le bighetta delle feso nel caso. Allora, questo è il pacco. Swappi, swappi, swappi. Carino. Speriamo che mettiamo un pacco. Il tuo telefono, il tuo nuovo telefono è qui. È soddisfazione dei nostri clienti, ma vabbè, non ci interessa. Ciro. Ma che cazzo? No, è vero. Ah, Ciro, l'hai fatto tu, l'altro. Non è da fare del coso. Del coso cosa, vedi? Ciro, perché c'è il cavolo, c'è il telefono? Eh, la pesce, l'hai fatto tu. Forse perché il cavolo non gli costa nulla? E' già, Ciro, l'hai fatto... Non ti fate nemmeno la mele, vedi? Ia, dammi il telefono! E te, che telefono ti devo dare? Compriamo su Swappi, compriamo su Swappi. Ciro, dammi il telefono. Mo dobbiamo vedere se riuscendo a contattarci. Ciro, dammi il telefono. E non va. Ia, stupido, dammi il telefono. Ehi, almeno l'ha messo. Non ci credo, ti hanno fatto il pacco. L'ha mai ben regalo, l'ho dimiso. No! Stronzo! Ma no! Ci va anche la cover del 7 Plus, hai visto? Oddio quanto è bello! Hai visto che ci sono scippi? Sì, però no. Eccolo qui ragazzi. Mio fratello voleva farmi lo scherzo, ma io non sono il tipo che ci casca anche perché è da tanto che sta dicendo da quando ho fatto l'ordine voi vedi che ti arriva il mattoncino e invece no, Swap è affidabile mio fratello è stupido e ok è arrivato ma è bellissimo beh era meglio questo però è la mattonella del box? si è la mattonella del box? come? devi prendere il tasto di accensione ecco il vero pacco volè il telefono c'è ma non funziona ecco qua si sta accendendo swap è affidabile ragazzi potete comprare c'è cazzo allora mio fratello è questo guarda quanto è riso guarda quanto è bello stessa grandezza stessa c'è io sto cretino sto cretino ecco perché facciamo il video unboxing chissà perché perché mi deve sfoltere chiaramente e mi chiamare la doccia guarda 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 è proprio lei c'entra perfettamente questo è una coperta l'iPhone 7 Plus ma sai come ho preso una corta cretino no perché tu poi qua dentro l'iPhone 7 Plus non è che l'hai nascosto l'hai lasciato qua ma perché ha preso e quindi certamente qua c'è la coperta ce l'ho visto ma io non ce l'ho più la coperta ce l'ho sempre là così ah va bene non lo so più all'inizio mi è venuto un po' l'infarto ma non ci riesci fratello non ci riesci cioè capisci che se tu mi dici eh poterli quel pacco col mattone dentro così allora è chiaro che poi io me lo aspetto che tu sei stupido no? cioè non lo dire proprio ma io dopo ci ho pensato che sei cretino no sì attivazione di iPhone potrebbe richiudere qualche minuto ma è troppo bello ah proprio ci tengo a precisare che ovviamente è bellissimo la confezione questa qua esterna è ovviamente stata aperta da me quindi non è fatta male ecco appunto non è fatta male chiariamolo io lo ho detto Ciro l'hai aperta tu perché io sapevo che era stato lui però ha detto vabbè è stata fatta un po' così e invece no era fatta bene ma è lui che voleva fare lo scherzo ma non ci sei riuscito va bene sei una merda va bene ragazzi quindi niente l'intento di questo video era un altro e non ci sono riuscito o ci sono riuscito in parte vabbè scrivetelo qui sotto nei commenti e nel frattempo mia sorella è spastica niente per questo video è tutto come al solito nel caso in cui vi fosse piaciuto fosse stato il vostro gradimento non dimenticate di lasciare un bel pollice in su qua sotto commentate condividete iscrivetevi al canale mio perché questo è sul mio canale sorpresa e ci rivediamo come al solito in un prossimo video disiscrivetevi ciao ragazzi ciao ragazzi sto stronzo